Sindaco Matteucci, oggi parte una campagna molto importante sulla sicurezza stradale, te lo dico con il cuore, è una campagna che le sta particolarmente a cuore. In Italia abbiamo ogni anno 7.000 morti in incidenti stradali. Ricordo per fare un esempio comparato che durante la guerra in Iraq morivano 1.000 soldati americani all'anno, oppure è come se scomparisse una cittadina come Lido Adriano ogni anno. Sono veramente cifre inaccettabili. In secondo luogo, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per i giovani sotto i 30 anni e la principale causa degli incidenti stradali che coinvolgono giovani che guidano è dovuta al consumo di alcol o di droga prima di mettersi a volante. Non ci sono strade assassine, non ci sono rotonde assassine, non ci sono incroci assassini. Certo le istituzioni devono fare tutto quello che devono per tenere in sicurezza la rete stradale, ma la totalità degli incidenti è causata dai nostri comportamenti. C'è un modo di guidare l'automobile che è assassino, un modo di girare in moto, un modo di girare in bicicletta o di girare come pedoni che è suicida. È per questo che abbiamo deciso di fare una campagna di comunicazione che durerà tre mesi e che avrà raggiunto il proprio risultato anche se servirà a salvare una sola vita umana.